Benvenuti nel canale, amanti di My Home My Destiny. Siete pronti per un'anticipazione esclusiva dei prossimi due episodi? La tensione tra Zeynep, Madi e tutto il cast sta per raggiungere nuove vette. Non perdetevelo e rimanete sintonizzati. Al ritorno a casa, Zeynep è accolta da una sacchine visibilmente turbata per gli eventi recenti legati a Madi. Affrontano la questione, Zeynep è profondamente delusa da Madi per essersi lasciato andare alla rabbia e aver rotto la promessa fatta a lei. Sacchine, cercando di difendere suo genero, sostiene che, in quanto uomo, deve imporre il suo rispetto e che Zeynep dovrebbe mostrare maggiore tolleranza. Specialmente considerando che Madi non assomiglia al carattere di suo padre, Bayram. Zeynep non riesce ad accettare questa giustificazione. Non può considerare il suo un legame felice solamente perché Madi non l'ha mai maltrattata. Rivendica il suo diritto di esprimere disappunto e di confrontarsi con lui ogni volta che sente di doverlo fare, rifiutandosi di adottare un atteggiamento sottomesso come quello di Sacchine. Poco dopo, Zeynep ha uno scambio simile con Sultan e con lei trova l'empatia che Sacchine non le ha offerto. Infatti, Sultan la sprona a non lasciarsi travolgere dalle azioni altrui e a cercare la propria felicità, a prescindere dagli errori e dalle decisioni di chiunque altro. Le ricorda inoltre che ha la fortuna di avere due figure materne, Sacchine e Nermin, da cui può trarre non solo debolezze ma anche forza. Questo dialogo riesce a sollevare il morale di Zeynep, e le due donne riescono a godere di un breve momento di serenità. Mentre ciò avviene, Mujgan si ritrova isolata nella sua stanza, oppressa dal dolore per quanto riguarda Burhan e Mehdi. Contatta all'ospedale sperando di avere notizie rassicuranti su Burhan, che, fortunatamente, non è più in pericolo. Ma la sua angoscia non si limita solo al suo amore per lui, ma anche ai problemi sorti con suo fratello Mehdi. In casa, Sultan fa sapere a Emine di aver ceduto sia la casa che il negozio, pianificando di traslocare lontano dai pettegolezzi locali. Emine non reagisce bene a questa notizia, sentendo che Sultan sta mettendo da parte la propria felicità in suo favore. Tuttavia, Sultan è determinata nella sua scelta e insieme partiranno per trovare un nuovo inizio e la loro serenità. Nel mentre, Mujgan continua a essere sommersa dal suo dolore interiore e, in un gesto simbolico, decide di distruggere tutti i ricordi legati a Burhan. La sua azione sorprende e sconvolge Sakine, che resta muta di fronte all'esplosione di emozioni di Mujgan. Dopo anni di dedizione verso la famiglia e gli altri, Mujgan esprime il desiderio di focalizzarsi su di sé, almeno per un giorno, lasciandosi andare a un'intensa ondata di lacrime. Zeynep ritorna al distretto di polizia per informarsi sullo stato legale di Mehdi. Con una chiacchierata con l'ufficiale, viene a sapere che, per fortuna, Burhan non ha presentato una denuncia e di conseguenza Mehdi può tornare a casa. Alleviata, Zeynep chiama immediatamente Mujgan per condividere la buona notizia, ma è Sakine a rispondere dato lo stato emotivo di Mujgan. Il rilascio di Mehdi porta una ventata di ottimismo, ma Zeynep non può fare a meno di pensare alla promessa non mantenuta da Mehdi di evitare la violenza. L'atteggiamento fiero e l'assenza di rimorsi di Mehdi non migliorano le cose per Zeynep, che si sente tradita e irritata. Mujgan, Kibrit e Noh arrivano per ricevere Mehdi. Tuttavia, lui decide di interagire solo con l'amico e la figlia, snobbando completamente Mujgan, che appare sempre più demoralizzata. Una volta a casa, Kibrit percepisce la tensione tra la coppia e suggerisce a Zeynep e Mehdi di discutere sinceramente dell'incidente. Durante il loro colloquio, Zeynep racconta dell'ansia e della paura che ha provato apprendendo le azioni di Mehdi, esprimendo preoccupazione per i suoi frequenti scatti d'ira. Sottolinea che il suo comportamento volatile è una fonte di preoccupazione per la stessa famiglia che vuole proteggere e che deve fare degli sforzi per cambiare. Nonostante ciò, Mehdi, pur ascoltando Zeynep, sembra non darle il giusto peso. Rientrando nella loro abitazione, Sakine e Sultan li attendono con una colazione preparata. Mujgan prova ancora a comunicare con suo fratello, ma lui la respinge nuovamente, lasciandola sommersa dalla tristezza. Zeynep coglie l'occasione per discutere con Mehdi del problema scolastico di Kibrit. La giovane, infatti, sta vivendo momenti difficili a scuola, dove è vittima di bullismo a causa della sua età avanzata rispetto ai compagni e del ritardo negli studi. Tuttavia, esiste una potenziale soluzione. Un istituto privato che permetterebbe a Kibrit di studiare con coetanei e recuperare gli anni scolastici mancati. Nonostante Mehdi comprenda la situazione, sottolinea le difficoltà economiche nel permettersi una scuola del genere. Ma Zeynep ha un'idea. Con il suo salario da stagista, potrebbero pagare l'istituto a rate, garantendo così un futuro migliore per Kibrit. Mehdi, ignaro che Zeynep ricevesse uno stipendio, le chiede quanto guadagni. Orgogliosa, lei gli rivela che guadagna 1000 dollari al mese, cifra destinata a crescere. Mehdi, tuttavia, sembra non rallegrarsi per la novità. Quando Zeynep gli racconta che, oltre al sostegno morale, Baris le ha fornito un'auto aziendale per agevolare i suoi spostamenti tra la polizia e il luogo di lavoro. Mehdi insiste nel volerla accompagnare al lavoro. Durante l'assenza di Mehdi, che si allontana per preparare l'auto, Sakine rimprovera la figlia con fermezza. Secondo Sakine, Zeynep ha ferito l'orgoglio di Mehdi. Ogni uomo, sostiene, desidera che la propria compagna non lo eclissi, e con la sua affermazione sul salario e la sua indipendenza, Zeynep ha instillato rancore in Mehdi. Zeynep è scioccata dalle parole della madre, ma Sakine rimane convinta. Ricorda come, nonostante le difficoltà economiche e il comportamento problematico del marito Bayram, lei si è sempre adoperata per la famiglia, ricevendo in cambio violenza. E cita anche il caso di Ekrem, che, pur essendo benestante, ha sempre provato rancore verso la ricchezza superiore della moglie Nermin, tanto da appropriarsi del suo patrimonio. Sakine teme che Mehdi, sentendosi umiliato, possa un giorno cercare di punire Zeynep per aver messo in discussione la sua posizione all'interno della famiglia. Nonostante le avvertenze di sua madre, Zeynep è convinta che Mehdi non sia come Bayram o Ekrem. Mentre Mehdi la accompagna al lavoro, le fa promettere di chiamarlo una volta terminata la giornata e le sottolinea che potrebbe non riuscire a controllarsi se dovesse incrociare Buran. Offesa da tali parole, Zeynep si dirige all'ufficio, inconsapevole delle preoccupazioni interne del marito. All'ufficio, Baris e Zeynep si confrontano sul dossier di Mehdi. Baris la mette al corrente delle numerose denunce passate ricevute da Mehdi, a differenza di Buran che ha un record immacolato. Zeynep tenta di difendere suo marito, ma Baris è preoccupato per l'eventuale impatto che le vicende personali potrebbero avere sulla professionalità e il benessere di Zeynep. Quella sera, Baris annuncia una competizione interna tra i dipendenti per affiancarlo in un caso di rilievo, suggerendo loro di dedicarsi allo studio del caso. Tuttavia, Zeynep, sapendo che la sua assenza a casa potrebbe causare problemi, decide di tornare e riprendere il lavoro dopo cena. Mentre Mehdi si sta avvicinando a casa, si imbatte in Buran che non perde occasione per stuzzicarlo. Quest'ultimo gli rivela che la sola ragione per cui non ha spinto per una denuncia è stato il gesto gentile di Zeynep di visitarlo in ospedale. Furioso e indignato, Mehdi reagisce con vehemenza e si precipita a casa in uno stato d'ira. Mentre Zeynep e gli altri stanno organizzando la cena, l'atmosfera si fa tesa con l'arrivo tempestoso di Mehdi. Esplode contro Zeynep, rimproverandola per averlo escluso da decisioni cruciali e per aver incontrato Buran senza consultarlo. La sua rabbia è palpabile, al punto da mettere in soggezione Zeynep come mai prima d'ora. Lui esige che, d'ora in poi, lei debba informarlo e ottenere il suo consenso prima di ogni decisione. Quando Zeynep cerca di placarlo invitandolo a sedersi per cena, Mehdi rovescia la tavola, imponendole di non sfidarlo mai più. Da questo momento in avanti, insiste, Zeynep dovrà agire come una moglie devota e rispettosa. Mentre tutto ciò si svolge, Mujgan osserva con un certo piacere, avendo finalmente visto suo fratello dimostrare autorità sulla moglie. Sakine, a sua volta, rimprovera Zeynep per la sua tendenza a non consultare Mehdi nelle decisioni quotidiane. Sgomenta dalle affermazioni fatte, Zeynep afferma con fermezza alle altre che non si lascerà trattare in quel modo e opta per tornare al suo ufficio. Al contrario, Mehdi, ferito nel suo orgoglio e deluso dall'atteggiamento di Zeynep, cerca rifugio presso il suo amico Nu, nella speranza di ottenere comprensione. Tuttavia, Nu, ascoltando il racconto, rimprovera Mehdi, non può criticare Zeynep che ha fatto innumerevoli sacrifici nella loro nuova vita. Forse l'errore di Zeynep è stato cercare Buran senza avvisarlo, ma l'ha fatto per proteggere Mehdi. Nu non riconosce più l'amico, troppo spesso oscilla tra rabbia e gesti estremi che danneggiano la sua famiglia e soprattutto Zeynep. Lo accusa di essere contraddittorio, mentre elogia Zeynep per essere avvocato, non riesce ad accettarla quando mette in pratica le sue competenze professionali, mostrando in lui un comportamento obsoleto. Nu esorta Mehdi a riconsiderare le sue azioni, altrimenti rischia di perdere l'amore di Zeynep. Mehdi, sotto l'effetto dell'alcol, borbotta che Zeynep non prova sentimenti veri per lui, ma forse è affascinata da un'immagine idealizzata di lui. In ufficio, l'orario si allunga, e Baris, vedendo lo sforzo dei suoi dipendenti, decide di mandarli a casa. Zeynep, per evitare ulteriori problemi con Mehdi, vorrebbe tornare con un taxi, ma Baris insiste per accompagnarla insieme a un'altra collega. Una volta a casa, Sakine la attende con uno sguardo severo rivolto a Baris. Rimprovera Zeynep per essere uscita senza consenso e per essere rientrata accompagnata da un uomo. Mujgan, dalla finestra, assiste divertita alla scena. Il giorno seguente, Mujgan affronta Mehdi sottolineando come lui l'abbia confinata in casa mentre tutti, tranne lei, hanno libertà di movimento. Facendo particolare riferimento a Zeynep e al suo ritardo notturno con Baris, Mujgan riesce astutamente a deviare la collera di Mehdi da lei a Zeynep. Infuriato, Mehdi affronta Zeynep appena entrata in casa, esprimendo il suo disappunto per le sue recenti uscite. Zeynep, però, si difende con determinazione. Mehdi, fuori di sé, le impone di consultarlo anche per questioni quotidiane come andare a lavoro e critica il suo abbigliamento. Mentre Zeynep esce per andare a lavoro, sente rumori di distruzione provenienti dall'interno. Mehdi sta sfogando la sua ira su una sedia. Mujgan, da lontano, osserva con un sorriso di vittoria. È riuscita a ottenere la sua vendetta su Zeynep. In preda all'ansia, Sakine si dirige alla dimora di Sultan, sperando di trovare un po' di consolazione dall'amica di lunga data. Le racconta dei tumultuosi eventi familiari, in particolare delle manovre di Mujgan, che sembrano minacciare la stabilità coniugale di Zeynep e Mehdi. Sakine esprime le sue paure e suggerisce che Zeynep dovrebbe rinunciare al lavoro per salvare il matrimonio. Tuttavia, Sultan, invece di sostenere Sakine, la incoraggia a sostenere maggiormente sua figlia. Anche Emine, presente, viene esortata a riavvicinarsi a Zeynep e a consolidare il loro legame. Allo studio legale, Zeynep è tesa, sa che dovrà affrontare un importante dibattito sul caso assegnato, e per di più con Varis. Mentre è immersa nella sua riunione, Mehdi tenta di contattarla senza successo, cosa che lo irrita ulteriormente. Decide quindi di attendere fuori dallo studio e, non vedendola uscire, interroga la reception sulla sua presenza. Quando viene a sapere che Zeynep è in consultazione con Varis, il suo scontento si intensifica. Nel frattempo, la discussione professionale tra Zeynep e Varis procede con successo, e lei viene selezionata come assistente nella causa. Ciò che non sa è che Mehdi la sta aspettando fuori, bollente di rabbia. Quando finalmente esce, Mehdi la afferra, facendola salire bruscamente in auto. Durante il tragitto, Zeynep, infastidita, lo incalza a esprimere le sue vere preoccupazioni. Mehdi le fa notare che disapprova il tempo che trascorre in ufficio e che non trova il tempo per rispondere alle sue chiamate. Le propone di collaborare con un avvocato di sua conoscenza, ma di fronte al rifiuto di Zeynep, dichiara che lei non lavorerà più per Varis. Zeynep, incredula, gli fa capire che non può fermarla dal perseguire la sua carriera e che non può decidere per lei. Nonostante ciò, Mehdi insiste sul fatto che il giorno seguente lei dovrà dare le dimissioni. Grazie mille per aver seguito questo video, cari appassionati di My Home My Destiny. Se il video vi è piaciuto, vi preghiamo di supportare il nostro canale cliccando mi piace e iscrivendovi al canale. Cosa pensate succederà nei prossimi episodi? Quali sono le vostre previsioni? Lasciate un commento qui sotto con le vostre teorie e impressioni. Ci vediamo nel prossimo video e, come sempre, continuate a seguirci, cliccate sulla campanella per non perdervi nessuna anticipazione sulle avventure di Zeynep. Ciao a tutti!